Seconda giornata Summer Cup Ci sono di fronte palazzine contro Diabolici Risultato ancora sullo 0-0 ma sono delle palazzine Simboliche anche dell'ultima azione a fare la partita Adesso la Ferola Sarla indietro Fanno un buon gioco Diabolici Si parte da Maraniello Cerca Valentino Allarga bene per Gottardo Palla in fallo laterale a favore delle palazzine Alza il pallone Gottardo, sbaglia tutto La Ferola Gottardo una serie di rimpalla alla fine Finisce per il portiere la palla Poi qui si sa non lascia scivolare il pallone laterale Palla in avanti Non riesce a stopparla Federico a destante Eeeh Ancora palla in avanti Vestiscono il Diabolici Maraniello Antisciva benissimo Alza ancora cercare Guzzano Lascia la c'è la c'è Eeeh Prima Abetto Brava No stress Bravo bravo Subisce fallo Guzzano c'è che il tiro fa la terra leghiamo qui il nostro collegamento